Il nostro giornale con l'annuncio della scomparsa di una bimba di appena 4 anni che si chiama Denise Pipitone. La piccola si è allontanata qualche ora fa dalla propria abitazione in via La Bruna a Mazzara nella zona dello stucchificio torinese. La state vedendo nell'immagine per le ricerche. Sono state allertate anche le forze dell'ordine. Se qualcuno l'avesse individuata può telefonare al seguente numero telefonico 328. È la prima volta di Piera Maggio al TV2 di Milano. Io Piera la ringrazio perché... Grazie a voi. Grazie a voi intanto per quello che avete fatto. Veramente siete grandiosi. Perché comunque oltre a quello che fate ci mettete veramente un interesse e soprattutto cuore. Ecco, un senso proprio quello vero, quello forte è il cuore nel fare il vostro lavoro. Anche ho visto un po' tutte le entourage che avete intorno. Sono tutti fantastici. Complimenti. È una bella squadra. Mi fanno un po' disperare ma è una bella squadra. Possiamo dire che... È la prima volta che sono qua. È la prima volta che è qui. Sì, negli studi vostri, sì. Ma volevo dire che stiamo anche aspettando un messaggio che potrebbe anche arrivare in qualunque momento. Io non dico niente perché c'è una persona di cui io non ho mai voluto parlare. Mai. Che però è una persona importante, importantissima nella sua vita e che sta aspettando da un momento all'altro. Io ho anche cercato di, insomma, dire vorrei che accadesse mentre siamo in onda perché è una notizia bellissima. Eh sì. Si può dire? Sì, si può dire. Mentre ero in viaggio c'è, insomma, c'è un po' questa attesa. È iniziato il travaglio o no? Sì, sta iniziando. Sta incominciando. Una bimba che viene a portare gioia, felicità in casa di Kevin e Brigitte, Kevin e suo figlio. Soprattutto anche in casa nostra perché sarà per noi la gioia, la gioia assoluta dopo tutti questi anni di assoluto dolore, dopo tutti questi anni, insomma, dove si vive più un'angoscia che una realtà vera e propria. Ci pensa al momento in cui prenderà in braccio questa bimba? Non voglio... Cioè, ci ho pensato tante volte, però aspetto quel momento in cui me la posso veramente vivere in pieno questa cosa. Cioè, non vedo l'ora di poterla abbracciare, questo fagottino piccolino. Non vedo l'ora. Adesso Monica si è già commossa, io lo sapevo. Ma, Monica Leofrede, ma devo dire che quando ho saputo che Brigitte era incinta, ho detto che è una bambina. È una bambina. È una bambina, ma lo sapevamo tutti. Guarda che era una bambina. Cioè, è stata una cosa, per noi è una gioia immensa. Il fatto di sapere, oddio, i figli, maschietto, femminuccio, oddio, non cambiava nulla. Però per noi ha un senso maggiore questa cosa che sia una femminuccia. Cioè, vivere questa nuova, questa piccolina all'interno, insomma, delle nostre vite per noi è il massimo. Non vediamo l'ora di accoglierla con amore. Manca veramente poco, eh, manca veramente poco. Veramente. Vediamo un attimo se è questione di ore o di qualche giorno. Vediamo un attimo come è la situazione. Sì. Allora, lei aveva questo unico modo per fargli prendere il latte. Se apriva gli occhi, basta, il latte non andava più per lei. Quindi dovevo fare in modo che glielo facessi bere mentre che aveva gli occhi chiusi nel letto. E questo era una nostra qualcosa di tra noi mamma e figlia. Insomma, questa cosa che ci tenevamo... Avevate talmente, come dire, un'intesa mamma e figlia, che quando lei, Piera, doveva allontanarsi per motivi di lavoro, nel caso, purtroppo, del primo settembre per un corso di informatica, lei parla a Denise e dice, mi raccomando Denise, dai un'occhiata a tuo fratello che deve studiare, no? E quindi questa bimba con queste treccine, con questo abitino, questa canottierina che aveva, guarda la mamma e l'ha rassicurata. Ha detto sì. Denise era una bambina molto giudiziosa. Tant'è che, l'ho detto qualche altra volta, anche il fatto che io, qualche giorno prima, la raccomandai di non andare dalla zia a disturbarla. Sai quanto mi rimproverò questo fatto? Tu non hai idea. Perché la casa di Piera Maggio e della zia sono talmente confinanti che si può passare sia all'interno, attraverso una veranda, oppure all'esterno. Non c'è bisogno di uscire fuori. Quindi, siccome era solita a volte, perché giustamente Denise giocava con la coetanea, tutte e due si tolgono un mese, proprio, hanno la stessa età, la cuginetta. E quindi era solita, spesso, magari andare dalla zia, andarla a disturbare. Allora io, qualche giorno prima, gli disse, amore mio, non andare sempre a disturbare. Attendi un po' quando la cuginetta, magari, vuole giocare. Fatti un po' desiderare. No, aspetta, che sia lei che viene a chiamarti. Ce lo siamo sentiti direttamente. Un po' obbediente, guarda. Ma avrei voluto che proprio non mi ascoltasse. Purtroppo mi ha ascoltata. Un'altra, perché la bambina quindi esce di casa invece che passare all'interno. Un'altra cosa che però noi sappiamo di Denise, che era una bambina che era molto affettuosa, molto matura, con quelli che conosceva. Sì. Ma aveva il terrore degli strani, degli sconosciuti. Non era, il terrore fosse sbagliato. Allora. Non amava. Io ho specificato questa cosa perché molti hanno frainteso questo discorso che, allora, non era solita Denise che andava con tutti. Però, quando vedeva dei bambini, dei ragazzi, si fidava. Non c'era proprio niente da fare, si fidava proprio. E poi c'era una situazione, si era venuta a creare una situazione anche nei pressi di casa mia, dove magari c'erano dei visi molto conosciuti già da un po' di tempo. E quindi, vedi, quando hai detto questa veranda, no? La casa di mia cognata, la casa di mia madre, c'è questa veranda che spesso è stato visto dall'esterno e nei vostri filmati, in tutti gli altri filmati. Loro erano solite anche giocare all'interno di questa veranda. Questa veranda, l'altezza delle bambine che avevano quasi quattro anni, è ad altezza che se passa qualcuno, un motorino, una macchina, chiunque, è altezza persone. Giustamente c'era la ringhiera e tutto. Però, chi che passava, poteva intravederle, giocare. E quindi, ma possiamo dirlo, c'erano delle persone che continuavano a passare, no? Questo fatto l'ho scritto nel libro, ma come l'ho scritto nel libro, lo disse subito, sin dall'inizio, agli inquirenti. Ho detto tutto quello che... Adesso questo scritto è qualcosa che io ho voluto cristallizzare, che magari non era una conoscenza di tutti. Perché racconta gli anni prima della nascita di Denise. Prima, sì. Poi accompagna ovviamente la tragedia che hai vissuto. Però racconta una ragazzina, la storia di una ragazzina che si chiama Piera Maggio e che si innamora da bambina. Non si può dire bambina, se no, da ragazzina si innamora. Vabbè, io addirittura quando ho conosciuto il mio ex avevo all'inizio 13 anni. Cioè, poi l'ho rivisto quando avevo 14 anni. Io non ho mai avuto altre conoscenze che il mio ex e l'attuale mio marito, come a livello... Lasciamo stare, che si è detetto di tutto e di più sulla mia persona. Lasciamo perdere, perché quello è veramente un capitolo vergognoso, proprio assurdo. Però, dico, io non ho avuto una... diciamo, una crescita anche dal punto di vista rapportarmi con l'altro senso. Non hai conosciuto il mondo. Diciamo, all'inizio proprio assolutamente no. No, all'inizio no. Tanto ero che ti sposi giovanissima. Sì, ma non vuole volare... Cioè, il mio matrimonio era qualcosa di desiderato perché volevo la libertà, perché comunque volevo un'autonomia personale, anche quello, perché... Io, su quello che racconto nel libro, non giudico nessuno, perché comunque ci sono a volte delle mentalità, delle cose tramandate, anche di famiglia in famiglia, e mentalità un po' datate. E quindi, purtroppo da noi accadevano queste cose, o adesso magari è tutta un'altra vicenda. Io, per esempio, sono del 71, però noi qui stiamo parlando addirittura molti anni addietro. Cioè, se io mi sono sposata nell'89, già andando a ritroso, andiamo indietro nel tempo, e comunque c'erano delle ristrettezze. Figurati che io, quando uscivamo, per esempio, da fidanzati, non potevo uscire da sola, ma doveva essere un'altra figura, una terza figura che comunque... Meglio se della famiglia, che controllava, no? Sì. Evitava che accadessero cose, insomma, diciamo così. Piera, noi facciamo, in questo tuo, raccontiamo questo tuo libro, raccontiamo dei piccoli particolari, che poi, insomma, chi vuole approfondire la tua storia, giustamente, deve anche potersela godere con una lettura. Devo dire che è un libro straordinario, che si legge veramente d'un fiato. Io le ho detto, lascia solo la mano in bocca, perché finisce troppo in fretta. E vorresti, ovviamente, una fine diversa da quella che hai nel libro, ma vorresti anche molto altro, conoscere molto altro di Piera e di Denise. Però, la riporto per qualche istante in Via alla Bruna, il primo settembre del 2004. Guardate. Il primo settembre del Vallo, abbiamo appunto la mamma della bambina che vuole lanciare un appello. Ecco, signora. Allora, io sono la mamma di Denise. Per favore, se mi aiutate a trovare mia figlia, anche le più banali informazioni, chiedete, date notizie anche alle autorità. Sono una mamma come tante altre. Aiutatemi, per favore. Signora, sua figlia non si allontanava mai da sola? Scusatemi, non voglio andare oltre, non me la sento. Non me la sento. Sì, come dicevamo, la piccola Denise si è allontanata appunto da... setembre del corale interiore grew knoj-ITY. bows. . Questo è il biaraccio. Faccio vedere, però Drineta la deve far vedere. Per favore aiutatemi Grazie Si 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 vedeva benissimo Lo sai guardo Guardo queste immagini E mi vedo proiettata Veramente in quella Quella dimensione proprio Sai E' stato detto Da chi vi lavorava che Che fingevo Chi è che l'ha detto? Temevano che io fingessi Gli investigatori dell'epoca? Temevano che fingessi Fra Zitta ne sa qualcosa Magari qualcuno Pensava che io Sai potessi fingere In quel momento Infatti si vedeva Si purtroppo c'è anche quello Allora se io Come scrivo in quel libro Dopo quasi Meno di due mesi Dalla scomparsa mia figlia Mi proietto direttamente A Palazzo Chigi Fuori da Mazzara Una ragazza Come vedete Quella ragazza Non è che io L'ho fatto così Tanto per gioco Perché Oltre Oltre La percezione Quello che vivevo In quel momento Era Non solo era la percezione Ma Purtroppo per com'era La situazione Come Venivo anche Trattata Io oggi Ho delle cicatrici Che comunque Credo che non si rimargineranno Mai Ho voluto far uscire Una parte In quel libro Perché una parte L'ho voluta tenere Proprio per me Ci sono delle cose Che magari Evito Anche di esternare Però Ho ricevuto Tanto male Tanto male Perché in quel momento Forse avevo bisogno Di persone Che Trattassero con me E in quel momento Mi trattassero Proprio come una madre Che aveva perso una figlia E non Come un'accusata Come Con lei Che avrebbe potuto fare Di tutto Per far sparire Sua figlia Con lei Che magari Veniva additata Come una poco di buono Non è facile Per una donna Che comunque Non ha nulla a che fare Con tutto ciò Sentirsi additata E sentirsi macchiata Di quelle Le cose più orrende Possibile A un certo punto Cominciano a spuntare Dei finti dossier Dei falsi dossier Delle informative Finte ovviamente Che parlavano Di un coinvolgimento Nel mondo Dell'art core Quindi Il film a luci rossi Satanismo Sì Pornografia Guarda Droga Di tutto e di più Si è detto Addosso la mia persona Allora poi torneremo E non c'è niente Di tutto ciò Figuriamoci Se ci fosse stato Solo un granello Però Scusatemi Ma anche se fosse stato Anche se io fosse stata La peggiore madre Di questo mondo Denise andava cercata Comunque Non c'era Non c'era niente Che poteva fermare La macchina Della ricerca E comunque Non andare ad affossare Una madre Non Magari Aiutarmi E allora Ci sono Due filmati Che vogliamo Mostrarvi Il primo filmato È quello di una madre Che sta fingendo Il dolore Per il rapimento Di una figlia Un'immagine di una madre Che è distrutta E sul divano È stato forse Uno dei momenti Credo più dolorosi Per Piera Maggio Che è costretta In un momento Di devastazione Dell'animo A lanciare un appello Sentite Siete Solidali Con me Come ho detto ieri Sono una mamma Come tanti altri Aiutatemi A trovare Mia figlia Denise Anche Il minimo indizio Anche la più banale cosa Rivolgetevi Alle autorità Vi prego Fatemela trovare Fate di tutto Mettetela in qualche parte In qualche posto Fate in modo Che qualcuno La ritrovi Abbiate almeno Un po' di pietà Vi chiedo questo Basta Signora Ma lei non ha idea Di chi possa essere stato A quanto pare A portare via Denise Non ci sono Delle cose fondate Sono tutte Delle supposizioni La magistratura Sta indagando Niente di più Non posso dire altro Signora Ma la bambina Si allontanava da sola Assolutamente no La bambina Non era solita Ad andare con nessuno Ma ieri esattamente Che cosa è accaduto Ce lo puoi raccontare Non ha fatto Mi stanno lasciando Questa dichiarazione Io ormai sto facendo E' una cortesia Che vi chiedo Perché ogni volta Che ci affacciamo A balcone Sempre questa Adene camera L'avete visto Tante volte Io capisco Dovete avere il lavoro Però siete un pochino più Lo so che dovete lavorare Però non c'è bisogno Che ogni volta Che facciamo Una vita a fare Sempre a quattro Non è giusto Cercate di avere Un pochino Di questo Ma bene Soffermatevi Nelle cose più importanti A noi Non ci quadrate Ogni minuto Che facciamo Da balcone Non facciamo Spettacolo Mi chiedo un pochino più Questo Mi chiedo questa gentilezza Questa è tenente Io le chiedo scusa No Va bene Però Piera Non finisce qui Perché Pochi giorni dopo Lei è costretta A lanciare Un nuovo appello Quindi ancora una volta A ricorrere Alle riserve di energia Lei ha anche smesso Di mangiare Quindi insomma In una situazione Per 30 giorni Più di 30 giorni Io Ho deciso Di non mangiare più E non lo so Mi ero messa in testa Che nel momento In cui mi portavano Mia figlia Avrei iniziato a mangiare Quasi un fioretto Sì Tant'è che Mi cercavano Di alimentare Con dei liquidi Perché io Non toccavo Più i solidi Anche io Anche io stessa Guardare queste immagini Vedo quella Vedo me stessa E mi sale la rabbia Lo sai perché? Perché mentre Vedo quelle immagini Quando io dico Lasciatemi stare Stanno indagando C'è stato un momento Dove io Ho rilasciato Pure delle dichiarazioni Ovviamente Venivano secretate Alcune Dichiarazioni A parte il fatto che Ma alcune Venivano secretate Addirittura Dicendomi Che non le potevo Neanche riferire Al mio legale Beh questo Non esiste Non è 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 Io non Lo sapevo Però Io non Lo sapevo Io ero Una giovane Madre Disperata Che cercava Sua figlia Che non Reggeva Neanche In piedi E a me Mi sono Dette A lei È stato Detto Piera Di non Rivelare Particolari Importanti Neanche Al mio Legale Neanche Il suo Avvocato Tant'è Che quando Uscì Dall'interno Di quella Procura L'avvocato Mi chiese Come è andata Signora Maggio Come è andata La situazione L'ho detto Guardi Avvocato Io non posso Riferirle a niente Perché mi hanno detto Che non posso Parlare Non posso Conferire Neanche con lei L'avvocato All'epoca Mi disse Non esiste Una cosa del genere Non è possibile Non esiste Un altro punto Fermo In questa vicenda E siamo A quattro giorni Dalla scomparsa Di Denise È che Piera Maggio È costretta A un certo punto Come dicevamo A riprendere Quel poco di forze Che aveva E lanciare Un altro appello Che però Racconta Esattamente Cosa stava accadendo In quei giorni Non solo A Mazzara del Vallo Ma anche In quella Sicilia Che doveva essere Davvero battuta Al tappeto Sentiamo Mi sono spostata Da Mazzara a Marsala E francamente Non ho visto Nessuna foto Di mia figlia appesa Né in un tabaccio Né in un giornale Né in un negozio Da nessuna parte Io avevo chiesto Come a tante altre persone Di aiutarmi E sì La solidarietà è stata tanta Non basta solo La solidarietà Ci vuole porre Un po' di azione In questo senso L'azione che sarebbe Mettere in evidenza La figura Di mia figlia Non sempre Nella sfera privata Come si è sempre ripetuta E come tutto oggi È uscito nei giornali Determinate cose Non è giusto Andare a fare Continuamente In azione Perché Ognuno di noi Hanno i suoi problemi Abbiamo i nostri problemi Qua si tratta Della vita Di una bambina Una bambina piccola Che noi vogliamo Riavere a casa Con noi Chiediamo la sensibilizzazione E ve lo chiedo Per favore Non solo Del ristretto Noi Sicilia Ma anche Nell'Italia Io ho visto Dei giornali Che addirittura La figura di mia figlia Non c'è per niente Ci sono Dei sottotitoli Io dico una cosa Lo sapete bene Insomma c'è la guerra Ok va bene Per ora si vive Un clima Molto teso A riguardo La guerra Ci sono Altre Scompasse Purtroppo Non ci sono Scomparse Né di serie A Né di serie B Anche nei giornali Togliete un piccolo Ritaglio di pubblicità E mettete Inserite la foto Di Denise Che Veramente Ne ha bisogno Denise Di essere visualizzata Non solo in Sicilia Anche nell'Italia E anche Possibilmente Anche all'estero Ne ha bisogno Denise Dell'aiuto di tutti voi E della collaborazione Di tutti i nostri Non basta solo La solidarietà Non basta per niente Solo la solidarietà Basta un poco D'azione Il che Ripeto Vi raccomando Non andate Ad inserire Delle cose Sbagliate Parlate Prettamente Sulla vita Di mia figlia Se volete Delle spiegazioni Sulla vita Di mia figlia Di quello che faceva Di quello che non faceva Perché le illazioni Sono fuori logo E ve lo assicuro Veramente Perché Purtroppo Se ne dice Di tanti colori Di tante verità Ci sono tante bugie Questo ve lo posso assicurare Questo è quello Che vi posso dire Vi ringrazio a tutti voi Qui siamo a quattro giorni In tre e quattro giorni Dalla scomparsa Di Denise Già Lei doveva Lanciare questo Perché 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 tutto quello Che andavo a riferire Alle autorità Usciva fuori E allora mi trovavo Davanti a una realtà Che era più grande di me Dove io cercavo Di proteggere Quello che era Mio figlio Principalmente Però Nello stesso tempo Non si cercava Denise Non c'erano Le ricerche attive Tant'è che Anche nelle autostrade E tutto Non c'era assolutamente Nessuno Di un posto Di pattuglia Qualcuno A Mazzara Per una settimana Non ci sono stati posti Di blocco Anche di più Dopo sei giorni E magari Quindi io In quel momento Cercavo di proteggere Quello che era La nostra sfera privata Perché Tutto quello Che io riferivo Io andavo A riferire Recentemente E usciva Sistematicamente Nei giornali In un certo modo Magari Recentemente Un investigatore Dell'epoca Che peraltro Ancora in servizio attivo Alla polizia Ha detto che Le indagini Sono partite tardi Perché tardi È stata data L'informazione Che avrebbe dovuto Mettere gli investigatori Subito sulle tracce Di Denise È vero? Allora Io Ho detto Della paternità Di Denise Il primo Proprio alle 12.30 Io sono arrivata A casa Il primo di settembre E l'ho detto Perché non si sapeva Chi era la paternità Allora Questo È qualcosa Che è stato chiarito Anche Durante il processo Di primo grado È stato chiarito Dal maresciallo Che Ha detto Questo Ha raccontato un po' Tutti Quelli che sono i fatti È successo Che Nei giorni Dopo Quando più Noi Venivamo Strattonati Più noi Ci chiudevamo Al riccio Ma non perché Non le avevamo Detto la verità O perché Questo non era già Stato Ampiamente Risaputo Di chi era La figlia Cioè Jesse sapeva Lo sapevano Lo sapevano Ah sì Ma è certo Ma lo dissi io stesso Allora Abbiamo sentito Anche dal racconto Che ha fatto Accuse di Vivere nel mondo Della pornografia Sette sataniche Satanismo Quant'altro Ma anche droga Questo ricordo Che noi non sappiamo Se è un falso ricordo O se invece Come più verosimile Forse frutto Di un falso dossier Forse frutto Di una Di una comunicazione Creata ad arte Insomma Questo ricordo Lo condivide con noi L'ex procuratore capo Di Pisa Sentite Questo è Asciutto Di Pisa Il fatto allora Che oggi Soltanto oggi Sono comparsi Nella cintura di Mazzara I posti di blocco Significa appunto Che Quello che diceva lei Che a bimba Mazzara Avete forse paura Che questi La possano portare fuori Diciamo che Io sono convinto Io personalmente Sono convinto Che la bambina Sia ancora Ammazzata Però Non è solo Una mia convinzione Da Da inquirente Insomma Ecco Quindi Lei continua A dire La pista privata E quella privilegiata Ma ciò che stupisce E come mai Nessuno all'interno Della famiglia O vicino alla famiglia Commette un passo falso Noi speriamo Aspettiamo Proprio questo Però Dopo cinque giorni Sarebbe lecito Qualcuno dalla famiglia Chiunque Insomma Aspettiamo Che chiunque Che abbia Faccia un passo falso Allora Questo è Il dottor Sciuto Il procuratore capo All'epoca Della sparizione Di Denise Devo dire che Passi falsi Ne sono stati fatti Per la verità Così Come dire Il nostro giudizio Però Non sono stati ravvisati Come tali La invece L'intervista Che avevo Annunciato E lanciato Riguarda Il dottor Alberto di Pisa Che era procuratore capo Dopo Il dottor Sciuto Sentiamo Mi risulta Che spacciava droga Che non è che Una famiglia Lui? No lei Lei Lei? Corona? No Corona La maggio Ah La maggio È un soggetto Non crede che sia Un soggetto Ora si è raffinata Chi l'ha vista Tutta truccata Capelli Il soggetto È quello che è Però a noi risultava Sì Dalle indagini? Sì Noi in genere Facciamo un accertamento Sulla personalità I precedenti La polizia Ci risultava Che Non era un soggetto Proprio limpido Diciamo Qualcuno è andato Da di Pisa Con un pezzo Di carta Guarda Vedi Su questa cosa Proprio sono Nera Ma nera 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 Perché? Perché Questo è un fatto gravissimo Gravissimo Già A prescindere Da quello Che Lui possa Chi gli abbia dato Non gli abbia dato Perché io voglio Questo dossier Voglio Sapere a che firma Chi gli ha dato Questo dossier E soprattutto Un procuratore capo Che fa Un lavoro De genere E Ha quella mentalità Già addosso I pregiudizi Addosso a me Allora C'è un discorso Molto particolare Che io raccontai Già Anni addietro Intanto io All'epoca A fine Primo procedimento Processo Io C'è stata una conferenza stampa Dove io Ero nera Lì Molto nera Ce l'abbiamo Ovviamente Oggi Forse si può intendere A chi era rivolta Questa Questa Un po' Questa mia arrabbiatura Allora Piera Guardi Facciamo così Le faccio sentire Chiedo scusa E pazienza Anche ai nostri ospiti Che so che vogliono Intervenire Ma siccome fa riferimento A un momento importante Allora Sentiamole E poi subito Piera Maggio Mi sento di dire Che c'è stata Troppo poca Chiarezza In tutti Questi anni E soprattutto C'è un volere Di qualcuno Veramente C'è un volere Di qualcuno Che fa Che fa in modo Che questo procedimento Vada Veramente Buttato In fondo A un fiore Una mano sulla coscienza Molte di queste persone Che stanno In questo tribunale Che sta in questa procura Perché veramente Si devono passare Una mano Sulla coscienza Allora Effettivamente Non sono state Quelle parole a caso Allora Io mi ricordo Benissimo Quando Il dottor Di Pisa Si introdusse In quella Prese Posto In quella procura Io chiese Al mio legale A Frazitta Ho detto Guarda Facciamo una richiesta Vorrei andare a parlare Con questo nuovo procuratore Vorrei almeno Presentarmi Io Ci andammo Io E Frazitta Ebbene Io non ho avuto Davanti una persona Io lo dico L'ho detto all'epoca Come me lo ripeto adesso Era come se avesse Davanti i legali Di Jessica Perché Il suo atteggiamento Nei miei confronti Fu tale Che io Da lì Ne uscì piangendo Fu tale Talmente brutale E furte Nei miei confronti Nella mia persona Tanto che Io E' come se avevo In quel momento Davanti uno dei legali Di Jessica Pulizia Di allora Cioè Io Uscì Da lì dentro Piangendo Ebbe Proprio Una cattiva impressione Di tutto Quella Che era Iniziata Un nuovo percorso Con un nuovo procuratore All'interno Di quella procura Dopodiché Ci fu Che è stata Rinviata a giudizio Jessica Attenzione Jessica è stata Rinviata a giudizio Non per Piera Maggio Ma è stata Quella procura Che ha ritenuto Che Jessica Pulizia Fosse Rinviata a giudizio E quel pubblico Ministero Che a Jessica Pulizia Voleva la condanna A 15 anni Non è Piera Maggio Che ha voluto E voleva Quella condanna Questo potrebbe Anche però Far ritenere Che non c'era Un pregiudizio Personale Del dottor Di Pisa Nei suoi confronti Ma forse Che qualcuno Aveva Prodotto Carte Segnalazioni Finte Certo Notizie Farse Però una cosa La devo aggiungere E Frazitta Giacomo Ne può dare Anche conferma Noi siamo stati Abbandonati Noi siamo stati Abbandonati Cioè non c'era Nessuno Non avevamo Un qualcuno Che ci rafforzasse In quello Che noi stavamo Portando avanti Me lo confermi Giacomo? Sì Certo 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 C'è stato Un atteggiamento Noi Cercavamo noi Di fare Gli interrogatori Nostri E erano quelli Pure più lunghi Cercavamo di Approfondire di più Di cercare Di arrivare Ad una Ad una verità Processuale Che potesse In qualche maniera Essere più vicina Alla verità reale Ma tutto questo È dovuto pure al fatto Che cambiarono Moltissimi sostituti Procuratori Che nel passaggio Da un sostituto All'altro Evidentemente Si perdevano Pezzi di storia Si perdevano Aspetti Che magari Anche non erano Diciamo All'interno degli atti Ma che in qualche maniera Durante le indagini Erano Riflessioni Questioni Che dovevano Poi essere Rappresentate Nel dibattimento E dovevano Fare parte Del contraddittorio Però in questo passaggio Continuo Di sostituti Molto si perdeva Si perdono dei pesi Certo Monica Leofredi Io chiedo veramente Mai come in questo momento Il tempo ci ha scivolato Tra le mani Chiedo veramente Agli ospiti Che hanno Tra l'altro Tutti Hanno voluto essere presenti A Milano Per incontrarti Ha detto la dottoressa Bruzzano Per impegni Di lavoro Ma insomma Monica ha preso un treno Arrivata Qui stamattina presto La dottoressa Viola Ha cambiato Ciao Roberta Ecco che è in collegamento Però intanto Monica Leofredi